Buonasera a tutti. Benvenuti a questa pre-apertura di Bergamo Film Meeting. Siamo molto affezionati al regista che vi proponiamo con questo film, Friedrich Weissmann, che è un regista che noi seguiamo da tanti anni, lui ha quasi 85 anni. Per questa occasione io ringrazio di cuore comune di Bergamo, che ha messo anche a disposizione questo teatro. Credo che sia anche il luogo giusto per poter presentare questo film. Poi a noi piace anche portare il cinema dove il cinema tradizionalmente non viene proposto. L'amministrazione comunale, in particolare il sindaco Giorgio Gori che è qui presente e tutta la giunta, sono particolarmente felici di ospitare questa prima serata del Bergamo Film Meeting, una rassegna internazionale, questa prima serata però quest'anno è particolarmente significativa per la città di Bergamo perché è un omaggio a una grande pinacoteca, la National Gallery, ed è una tappa di questo percorso di avvicinamento all'apertura dell'Accademia Carrara.